ok dai lo ammetto il titolo c'è scritto addio ma almeno non è così clickbait come l'ha fatto questo bibino ebbene sì il titolo di questo video è clickbait perché sì ragazzi diciamo il mio video è per metà vero e metà clickbait o meglio spero che questo video arrivi a più gente possibile perché ragazzi basta youtube come vi ho detto in qualche video fa youtube mi sta mettendo i bastoni fra le ruote e credo si sia visto nell'ultimo periodo che le mie views stanno calando ma drasticamente ragazzi ma non solo le views anche gli iscritti tutto ragazzi tutto sta calando nel mio canale non credo sia una cosa mia ma credo sia un periodo proprio così di youtube penso che sia normale spero almeno ragazzi per favore vi chiedo di vedere questo video fino alla fine per favore questo video chi ci tiene a me lo veda fino alla fine perché un video davvero davvero molto importante se vedete che non sono così allegro come tutti i giorni ragazzi questo è il problema youtube mi sta mettendo i bastoni fra le ruote guardiamo un po di statistiche a fare di solito quelle 300 visual a video ne sto facendo 130 se mi va bene 150 invece gli iscritti prima ne facevo anche 15 20 al giorno ora se mi va bene ne faccio 5 forse 10 al giorno ma neanche quindi ragazzi l'unica cosa che possiamo fare per fermare questo calo di tutto come vi ho detto qui entrate voi in gioco quindi per favore vi chiedo di lasciare like a tutti i video che escono appena esce il video lasciate like per favore vi scongiuro lasciate like condividete questo video sullo stato i vostri amici a chi volete e se vi fa piacere lasciate anche un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di tutti i video che usciranno perché ragazzi come vi ho detto è iniziata la scuola ma i video non mancheranno mai anche se questo qui è un periodo un po buio per il mio canale detto questo scusate un po per il video morto spero che si sia capito come sto perché comunque ragazzi non sembra c'è in realtà credo sembri ma ci tengo un botto questo canale anche perché è la prima volta che riesco a concretizzare un mio sogno cioè almeno youtube e niente voglio che questo canale arrivi alle stelle e le sante pecorelle ok stranamente i miei video anche se sono seri diventano sempre trash niente ragazzi spero si sia capito il messaggio per favore vi chiedo di lasciare un like a questo video condividetelo a tutti i vostri amici lasciate un commento se volete se vi fa piacere e niente ragazzi spero che quelli che ci tengono a me soprattutto siano arrivati a questo punto se siete arrivati a questo punto scrivete hashtag vero davino e ora iniziamo anche con bibbini cernobiliari no 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 questo video no vi prometto però con qualche altro video ve li porto però oggi no e niente ragazzi questo video si conclude qui noi ci vediamo un prossimo giorno con un prossimo video ciao